E sono usciti a razza dalla linea 8, abbiamo a linea di classifica Rocchetti che spinge, 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 e vedete tutti, io sono la pisa, c'è la famiglia a fare il rider d'alto oggi sul Tirol, perché la famiglia fosse un vostro tecnico, quindi abbiamo 4-6-6, adesso Rocchetti, prendo subito il lab, 920, seconda posizione per Francesco Merni, Piper Boyce in seconda, Rocchetti in terza posizione. Sembra non avere proprio l'ultima linea per Alessia che ci ha giudito a questa finalissima categoria Cluson Under 39.